Comincio subito dritto per dritto con una questione che è molto cara alla Lega e cioè quella delle chiusure e riaperture anche perché tocca veramente da vicino il cuore del suo di Castero e però le chiedo questo, come si fa a parlare di riaperture con i dati di ieri, 620 morti? Non è ancora, naturalmente è giusto guardare oltre, sperare, insomma confidare, anche sulla base scientifica è l'unica certezza che abbiamo, i vaccini, però ancora forse è presto, tra l'altro c'è un decreto che è ancora in vigore che esclude le zone gialle per tutto aprile, forse si può programmare dopo la riapertura semplicemente e pensare a farlo bene? No, in realtà non si può programmare dopo, cioè ci sono delle attività che puoi aprire dall'oggi al domani, che ne so il barbiere, mi vede come sono conciato, sono chiusi i parrucchieri e uno non può andare, perfetto, i dati migliorano, uno può aprire e il giorno dopo non c'è problema, tantissime attività possono avere un preavviso molto breve, altre attività hanno bisogno di un preavviso No, ma proprio questo volevo dire, possiamo pensare a programmare ora le riaperture per il dopo delle attività? Esattamente quello che diciamo, noi diciamo di guardare i dati, monitorare i dati, sulla base dei dati, aprire il primo possibile, per capirci è un po' come a presente il Gran Premio, quando entra la Safety Car, ok? Perfetto, e sei tutti sulla stessa linea, oggi è così nel mondo, oggi siamo tutti sulla stessa linea, dopodiché appena va via la Safety Car, chi parte più veloce vince Noi abbiamo bisogno di programmare per essere veloci, altrimenti gli altri ci fregano, è banalmente così Allora non è vero che la Lega, certo, e in particolare immagino per il suo, ma... Certo, ma ci sono, come dicevo, ci sono attività che tu puoi aprire dall'oggi al domani, che ne so, stasettimana i dati vanno bene, uno può dire perfetto, dalla prossima aprono tutta una serie di attività Ok, ce ne sono altre in cui invece va detto per tempo, un grande albergo ha bisogno di un mese per sapere assumere gente, fare tutto quello che va fatto, eccetera Sapere e non sapere quando inizia la stagione estiva vuol dire oggi dall'estero, ma anche dall'Italia, uno programma o non programma le vacanze, prenota o non prenota Per cui è questione di programmazione e di verifica monitoraggio costante, questo è Allora però su questo mi sembra che non ci sia la necessità di uno scontro, perché lei sta dicendo una cosa molto logica, soprattutto non sta dicendo apriamo domani, visto se i dati sono questi E mi sembra che anche la Lega, anche diciamo il livello politico della Lega aggiunga se i dati lo consentiranno Ora, i dati si sa che ad aprile, proprio perché lei dice che c'è bisogno di programmazione, quindi non si può fare dall'oggi al domani Non è che se diminuiscono i contagi e comunque poi l'effetto purtroppo sui decessi è sempre sfasato di qualche settimana Ecco, quindi vuol dire che non si può nemmeno immediatamente, che forse è stato un errore non tenere conto di questa sfasatura anche di recente E allora le chiedo, non ci si può, come dire, non si può il governo accordare, anche chiedere una specie di tregua in modo da non creare incertezze, aspettative E fissare semplicemente una data ragionevole, lei ce l'ha in mente una data ragionevole? Allora guardi, in Francia dicono il 14 luglio è la festa nazionale, negli Stati Uniti il 4 luglio Noi ci abbiamo il 2 giugno, è un po' prima, però adesso... Eh, il 2 giugno potrebbe essere una data? Attenzione, potrebbe essere una data, il tema è appunto di programmazione e di monitoraggio Allora, la programmazione è fondamentale, quindi iniziare a dire noi stiamo lavorando settore per settore Stiamo vedendo i protocolli, faremo le nostre proposte e diciamo, ok, settore per settore dare delle date Che ne so, fiere congressi internazionali, se tu non dai una data per tempo, saltano e vanno all'anno 21 E noi perdiamo miliardi di euro, quindi, ok, diamo dei protocolli seri e le date Per le attività invece che possono aprire subito, lì bisogna guardare con attenzione i dati Ieri in Gran Bretagna hanno aperto i pub, per capirci Certo, sono molto avanti sulla vaccinazione, hanno un numero di morti D'accordo, però dal momento in cui... E sono stati chiusi da novembre Dal momento in cui in Gran Bretagna hanno dato una tabella E tutti hanno potuto programmare e organizzarsi Sia i cittadini, sia gli operatori economici Questo è il punto, noi questa cosa vogliamo, molto semplice Ma questa cosa la potete...